Grazie a tutti. La vastoviglia da incasso. FBA di Bruno, corso potenza 183. Torino, se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. Delete! 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 Lecce! Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, Boxing Day, benvenuti in una nuova puntata del podcast ufficiale di TuttoWrestling.com, intitolato, anzi, Wrestling Café, puntata, diciamo, natalizia, anche se andiamo online con un giorno di ritardo rispetto. Eh beh, sì, andiamo online il 26, anche se in realtà Natale, ovviamente... Buonasale! Buonasale, Mattia, buongiorno Mattia. Oddio, cos'è? Oddio. Allora, abbiamo Mattia di noi in collegamento Discord da casa sua, penso. Bosca! E Fabio dalla macchina. Sì, dalla macchina, perché a differenza vostra che non fate un cazzo, io sono una persona attiva. Ma cosa hai fatto? Hai fatto una visita, hai fatto. Eh, oh, e queste cose... Sì. Eh, ci sono anch'io! Conoscendoti, conoscendoti... Conoscendoti... Ce ne vale della giustizia! Ma, conoscendoti sarà stata una visita coniugale al massimo. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Come ti faccio? Che faccio? Vabbè, abbiamo intenzione di fare tutta la puntata così? Avvertitemi, perché sennò mi metto d'accordo. Allora, è un Natale, diciamo, notizie della settimana non ce ne sono tantissime, più che altro perché comunque sotto Natale, ovviamente il mondo del wrestling è un pochettino fermo. C'è solo una notizia. Sì. Il fatto che Roman Reigns e Sami Zayn siano delle chiavi che ha giocato a FIFA. Sì, soprattutto Zayn. Sì. Però lui aveva anche vent'anni che non giocava a FIFA. Sì, esatto. E gli hanno affidato la Juventus per motivi che mi sfuggono. Però è un altro sorteggio. Ma, casualmente, Rusev per sorteggio ha avuto Real Madrid, che è la sua squadra. Ma, infatti, se ti ricordi, lo stesso Wutz dice che è stato un sorteggio torbido. Sì. Ah, ok. Torbido fatto, tra l'altro, non in diretta, ma fuori Honda. Vi do un'informazione esclusiva. Sì, prego. Visto come Zayn si è preso cura della Juventus, è stato già dato ordine delle connessi di Sky di dire che Zayn è una chiavita. Ok, benissimo. Guarda, io non ho niente in contrario. Dopo la prestazione squallida di Zayn, non ho niente in contrario. Perché ha trattato male la Juventus e a Sky è vietato fare questo fatto di lesa maestà. Certo, certo, va bene. A proposito di Palatini della Giustizia, se ci sta ascoltando, se la tosse non lo ha già distrutto, no, lei, l'altro, quello vero più che altro. Non so se ci sta ascoltando, ha il microfono disinserito in questo momento, però... Guida il satellite della giustizia! Smettila! Più che altro, sto aspettando che finiate di dire stronzate in stereofonia. Ecco, appunto. Buongiorno Giovanni, come stai? Buongiorno, lasciamo perdere come sto. Buongiorno una sega, giudicando dalla voce più che altro. No, lasciamo perdere come sto perché è Natale, siamo tutti più buoni. Parla per te, tanto per cominciare. E quindi non posso, in realtà non potrei in nessun caso dire in onda ciò che vorrei dire in merito al mio stato di salute. Ecco, ma lo possiamo sentire, quindi non è un problema. Ecco, appunto. Non è un problema, vai tranquillo. Vabbè. Dicevo, il mondo del wrestling è abbastanza fermo, tutto sommato, contando che è Natale. A parte SmackDown che ha caricato oltremodo la puntata di martedì. E c'è stata la più grande puntata di sempre di Tolkien Smack. Sì, esatto. No, ma io parlo della puntata che deve ancora arrivare, più che altro. Però è stata una bella puntata sto giro. Sì, no, è stata una gran bella puntata di SmackDown. Mi è molto piaciuta. Secondo me, SmackDown, in una mia tesi su SmackDown, che loro avessero realmente in programma quella puttanata di Paper Violin, di Earth Evolution, poi per qualche motivo ha deciso di non farlo più, però hanno spostato i piani su SmackDown. Può essere, può essere, perché comunque martedì avremo un match per il titolo WWE con il triple threat tra Baron Corbin, Dodd Ziegler e il campione AJ Styles. Poi avremo il titolo delle donne in palio tra Becky Lynch e Alexa Bliss. Poi cos'altro? Ah, il four-way per i titoli di coppia. Four-way per i titoli di coppia. Non escludo che il titolo intercontinentale sia di nuovo in palio, perché tanto ormai è una running gag ormai, con Miz costretto a difendere la cintura ogni settimana, anche se il piano mi sembra, mi sembra ormai, cioè mi sembra che siamo ormai diretti verso comunque Miz contro Remrose a livello di Faida. E non ho niente in contrario, in questa notte. E poi, tornando a SmackDown, ritornano in John Cena. Sì, io però, tra l'altro, a me SmackDown ha fatto salire, sorgere un dubbio, soprattutto questa settimana. Sì. Perché hanno tirato in mezzo dei temi che solitamente non buttano in mezzo. Sì, l'hanno buttata abbastanza, l'hanno buttata, non voglio dire sullo shoot, però quasi, perché comunque hanno mischiato comunque la realtà con le storyline parecchio. No, è vero, però, bene o male, la storia di René con Ambrose l'avevano abbastanza tenuta fuori, diciamo dall'universo dei programmi principali. Però ora si sa, è una cosa di... Sì, sì, no, ma si sapeva già da un po', a dir la verità, eh. Sì, 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 no, assolutamente andranno a fare lì. Sì, settimana scorsa Brian gliel'aveva piazzata molto leggera quando AJ gli fa, a te piace Ambrose. Era come, se ti ricordi, il periodo della DX quando c'erano le allusioni al fatto che Triple H e Stephanie erano davvero sposati, se ti ricordi, che lo sapevano tutti che erano sposati, però non veniva detto. Poi si sono decisi a introdurre la cosa anche nelle storyline, quella stessa cosa. Sì, sì, più che altro, no, ma sai cosa, anche il linguaggio che hanno usato, ci sono delle cose che mi hanno fatto dire, boh, ma che cazzo gli sta succedendo al PG? No, vabbè, dai, è ancora abbastanza PG questa cosa. Beh, no, quando Natalia dà della puttana cosa più volte. No, non dà della puttana, beach vuol dire stronza, più che puttana. Comunque, vabbè, non è importante. Se però vi posso interrompere. Prego, vada. Io, come al solito, ne faccio una questione di priorità. Vada, ecco. Cioè, banali scene che si sono già viste. Un po' di violenza che si è già vista merita di essere l'argomento principale quando nell'altro show, il main event è stato finalmente chiuso da un personaggio che è in palese rampa di lancio. Eh, che è quello il guaio. Tu vedrai il WrestleMania contro l'eroe di questa compagnia, non sai? Assolutamente, sì. Ecco, ecco, aspetta che... Ecco appunto che introduciamo degnamente l'argomento. Io lo faccio, io lo faccio. Giova, ti faccio 15 minuti di video durante quel match. Giova, quanto sei emozionato per questo match? Durante Strowman contro l'eroe. Sì, sì. Ce l'avrete ancora con me? No, in quel caso no. Però, io ti faccio una domanda, Giova. Noi abbiamo scoperto un retroscena. Sì. Che, ovviamente, non avevamo ancora portato in onda, ma adesso possiamo portarlo, visto che sei venuto in onda con noi. Ok. Ce l'ha detto il tuo compagno di viaggio dell'anno scorso. L'anno scorso tu ti lasciasti sfuggire una frase. Dopo il main event è una vergogna, non rispetta di fare... Ecco, eccetera, eccetera. Avevi detto al tuo compagno di viaggio che non saresti più stato un'Arestelmania in tempi recenti. Per diversi anni. Per diversi anni. Esatto. Come mai quest'anno ci vai? Perché ho fesso, sostanzialmente. Beh, anzitutto, il vostro compagno di viaggio, secondo me, ricorda male. Non lo dissi a valle di quel main event. Sì. Lo dicesti quando? Lo dissi prima. Mhm. Anche parecchi giorni prima. Arrivando... Poi, avendo visto quel signore di me, c'hai cambiato idea. Dopo Roma Rescot o Triple H, ti sei detto, cacchio, devo tornarci. No, più che altro perché pensavo, vabbè, ormai sono troppo vecchio per fare queste cose. Ormai ho raggiunto, come dire, ho visto quello che dovevo vedere. Poi hai visto l'iPad nuovo in venti e ho detto, ma sì, quasi quasi, facciamoci la trasferta via in Florida per andare all'Apple Store. Sai cosa ha fatto? Sì. Ha visto, ha avuto una visione nel futuro e ha detto, fanno Strowman contro Reigns, avresti il meglio. Posso io perdermelo dal video? Sai cosa ha avuto? Sai cosa ha avuto? Ha avuto una premonition! Una premonition! Esatto. No, in realtà ne ho fatto un fatto climatico. Ho detto, guardate, se non vado in Florida non andrò da nessun'altra parte a vedere un'altra edizione. Vuoi negare alla gente della Florida la visuale di te che va in giro in braghe di jeans corte ad aprile, effettivamente? Sempre meglio di loro, le cui braghe di jeans potrebbero fare da telune del circo. Immaginatevi Giovanni in giro per Orlando con le Daisy Duke. Immaginatevi cosa può essere. Ti metti la giacca da panzone buon tempone, Giovanni. Fabio ce l'ha! Fabio aveva preso la camicia ai tempi da panzone buon tempone. Ma non siete a Miami, siete a Orlando. No, è un'altra di Utas. Orlando sì, penso che ci sia a Orlando, effettivamente, Utas. Vabbè, comunque. Mi ha già pianificato tutte le cose. Ecco, scemo io giustamente a non pensarci. No, vabbè, tornando per un attimo a... Poi di Strowman e delle potenzialità per WrestleMania, che mi danno già i brividi oggettivamente, parleremo più avanti. Tornando a SmackDown, questa presenza di John Cena di martedì, secondo me, a cosa può portare? AJ Styles. Tu dici AJ Styles. O AJ, o Vanilla Rumble. Entra nella Rumble anche lui. Anche sì. Come siete disgustosamente materialisti. Ecco. John Cena verrà a SmackDown, perché dopo aver sentito quel promo... Per difendere la fidanzata, giustamente. Ah, chiederà tutti di... Chiederà a Michi di sposato. Eh, certo, sì. Beh, sì. A SmackDown fanno questa cosa, va bene. Perché secondo te non è possibile. No, 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 anzi, è possibilissimo. Contando il mondo del wrestling, niente è impossibile. No, ma contando quello che ha detto Carmella. Sì, 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 no. Ricordo quello che... Beh, anche quello che ha detto Natalia, se per quello. Ma quello che ha detto Natalia era legato solo a lei e non a Cena. Mhm. Mentre quello che ha detto Carmella era un fatto legato a... Beh, Natalia ha detto a Michi che John non la sposa perché è una persona completamente vuota. E non mi sembra. Non è vuota, è piena di silicone, infatti. Vabbè, lascia stare, lascia stare, lascia stare. Lascia stare. Nicchia ha degli ottimi argomenti da portare. Due, per essere precisi. È bello come quattro di noi abbiamo subito detto no, Nicchia è tutt'altro che una persona vuota, anzi è una persona particolarmente piena. Sì, vabbè, lasciamo stare. Di silicone. Vabbè, la vogliamo finire, per favore. Grazie. Strano, non facevate questi ragionamenti quando ve la siete trovata? Non avete fatto questi ragionamenti quando ve la siete trovata? No, sicuramente no, guarda. Ecco, non avevo dubbi, guarda, Fabio. Date a fare il culo che io me la sono persa. E cazzi vuoi. Aggiungerei anche. Vabbè, vabbè, hai... Ma noi per essere mica abbiamo ottenuto altri obiettivi quest'anno. Beh, tu, vabbè, scusami. Scusami, scusa. Scusa, Giovanni, noi abbiamo avuto le bellas. Tu hai puntato a Puerto Rico e cosa? Rosa Mendes, ai tempi. Rosa Mendes, in effetti. Insomma. Io ho puntato a Puerto Rico. Il vero... C'è un vero scandalo il fatto che non ci hanno fatto fare la foto con Mr. Smackdown l'anno scorso. Quello è il vero scandalo. E anche quest'anno dubito che potrà avvenire perché più che altro noi avremo... No, ma guarda quello... Ma guarda che, beh, dopo Puerto Rico dovrebbe tornare. Però più che altro noi abbiamo un roster di Roma quest'anno. Esatto. Al tour italiano a Bologna. E poi io non ci sono neanche al tour. Ah, non vieni ufficialmente? Eh, non penso. Vabbè, vediamo. Cioè, io ne ho parlato col Fanca. La trasferta dell'anno scorso è stata abbastanza dura. Vabbè, sì, perché siete ripartiti subito. Quello è il problema. E siete ripartiti subito. Poi lavoriamo e tutto il resto è un po' un casino. L'anno scorso fu abbastanza pesante. Quindi non penso. Vabbè, io e lì, il paladino della giustizia, se non crepa prima, contando le sue condizioni di salute, dovremmo esserci. Chi è? Eh, lo so che fai te, ma hai pienamente ragione anche, tra l'altro. Esatto. Almeno, davvero, davvero, un indirizzo alternativo per i biglietti. Eh, non si sa mai. Non si sa mai. Vabbè. Della Davide B parleremo dopo, anche per magari cominciare un pochettino a tirare le fila di questo anno. Nel frattempo noi ci spostiamo al Tempio, perché a livello di puntate siamo quasi alla fine dell'anno anche per Lucia Underground. E quindi andiamo appunto a parlare di Lucia Underground. Tra qualche istante. Eccoci qua. Allora, è stata una puntata caratterizzata da due match. E più che altro avanzamento anche di storyline per quanto riguarda Lucia Underground. Perché abbiamo avuto il 4-Way a eliminazione per decretare il nuovo number one contender per la cintura appunto di Lucia Underground. E abbiamo avuto il rematch tra Sexy Star e Johnny Mundo. E' andata bene o male in un... bene o male è andata come si prevedeva alla fin fine. Perché tu, non mi ricordo chi l'aveva detto, forse proprio tu Fabio. Fabio. Che saremmo arrivati a The Mac number one contender contro Joe Morrison. Ha senso effettivamente che sia quello il proseguimento. C'è stato, diciamo, il re d'union che è stato il segmento... Esatto, sì, esattamente. Esattamente. Mi ha fatto molto ridere una cosa da parte di Cage. Sì. Che praticamente il lazzo... Se tu ti leghi il lazzo sull'avambraccio... Sì. E poi praticamente ti metti in mano la parte... Come si dice? Un'estremità. E poi tiri un pugno, è come se tirassi una catenata. Ah, ok, sì. Hai visto come... C'era il pugno libero Teano quando gli ha tirato il pugno in faccia. È vero, ricordo, ricordo. È vero. È stato un bel match comunque. È stato un buonissimo match il 4-way alla fin fine. Sì, è il tipico match di Luce Underground. Tanti spot, tanta azione. Sì. In una serata in cui tra l'altro c'è stato un altro 4-way eliminazione. Però da NXT più che altro. Anche quello decisamente bello, tra l'altro. Ma ne parleremo poi tra non molto. Sì, a me è piaciuto tanto. Sì. Abbiamo, come detto, avuto anche avanzamento di storyline in quel di Luce Underground. Perché abbiamo avuto l'ennesima scena di lotta a modello Kung Fu negli spogliatoi. C'è una regola che nel Backstage si può lottare solo a Kung Fu? Evidentemente sì. Perché cacchio non l'hanno chiamato Kung Fu Underground? Combattono tutti in Kung Fu. Combattono tutti in quel modo. Con Arrostar e Phoenix che tentano di... Che praticamente rivogliono il loro compagno Drago. Che però è stato rapito da Pindar, Vibora e da Cobra Moon. Comunque Pindar e Vibora sono fighissimi, ragazzi. Non so come sono sul ring, ma presentazione è fighissima. Sì, a livello di presentazione hanno fatto un ottimo lavoro, effettivamente. Poi li vedremo ovviamente sul piano lottato. Drago che poi scopriremo a fine puntata a essere prigioniero di Cobra Moon e della TV. E sputare fuoco, ma quello lo sappiamo. Vabbè, è un Drago, giustamente. Non dovrebbe essere una sorpresa da quel punto di vista. Abbiamo visto che sputa fuoco o si ciba di fuoco? Non sappiamo cos'è, un fuoco oriano. Mangia fuoco. Mangia fuoco, esatto, sì. Abbiamo avuto tra l'altro anche uno strano segmento con Dario Queto e Crane. Sì, con la tavola Ouija. Sì, con la tavola per le sedute spiritiche. Questa cosa mi fa pensare. Vuol dire che lui quando era bambino evocava Catrina e facevano cose? Vuol dire che tutti hanno 622 anni. In questa serie sì. Evidentemente hanno tutti più di 200 anni. Non lo so, lo vedremo poi in seguito più che altro. Ammettetelo, quando ha preso e salito sopra e ha tolto il pannello dal soffitto, avete tutti pensato alla bamba, vero? No, vabbè che è Dario Queto. Ma Dario Queto dovrebbe sapere, no, fosse stata quella roba lì, Dario Queto avrebbe dovuto saperlo più che altro. E ci sarebbe stato Enrico Papi che urlava, grazie a Dio no, grazie a Dio no, grazie a Dio no, grazie a Dio no, diciamo. Enrico Papi uno di noi. Come scusa? Enrico Papi uno di noi. Parla per te, per favore. E come detto poi nel main event abbiamo avuto la vittoria di Johnny Mundo nei confronti nei confronti di, come si chiama, nei confronti di, non mi viene la parola, nei confronti di Sexistar, ecco. Non mi veniva andare. Non mi veniva andare. Io sai che mi sono saltato metà match. Ah sì? Ho visto solo il finale. Mhm. Sì, perché nel momento in cui ho capito, nel momento in cui vedevo che l'andazzo era Johnny Mundo che scappava e lei che si attaccava alle gambe di Johnny Mundo, mi sono rotto le balle. Ah, ok. Andato avanti tutto il tempo così, che palle. A me onestamente non è, ha fatto schifo meno di altri match di Sexistar, diciamo così. No, ma era partito bene. Poi l'andazzo è diventato quello con Mundo che scappava e lei che lo prendeva. Andavano avanti così. È il problema di un match uomo contro donna senza interferenza, cioè prenderlo credibile. Più di un tot senza scamotaggio. Il problema di scamotaggio alla fine l'ha trovato lui, che è una cosa che ci sta per il personale. Vabbè, vedremo che accadrà nelle prossime settimane, vedremo anche quando sarà questa opportunità titolata per The Mac contro Johnny Mundo. Comunque quanto è grasso. C'aveva i rotoli di ciccia. Perché, scusa, vogliamo parlare di Marty the Moff? Sì, ma guarda che tra tutte e due... Eh, se la giocano effettivamente, se la giocano pienamente, detto questo. No, effettivamente è un uomo come se... È Uther! È Uther! Sì, è nero però. È Uther nero. Sia lui che... come si chiama? Che non viene una parola. Che Marty the Moff. Che Marty the Moff, esattamente. Passando a NXT, abbiamo avuto il 4-way per decidere il posto di number one contender appunto alla cintura di NXT, vinto da Bobby Roode, che avrà quindi questa title shot in quel della Royal Rumble. Non so se però ci porterà già a un cambio di titolo questa cosa. Non lo so. Perché sono abbastanza chiusi in un angolo in questa situazione. Nakamura l'ha appena rivinto. Ci potrebbe stare, eh? Ci potrebbe stare per tenere Nakamura in seguire. Io non posso esserne sicuro, però penso che... Dipende da quello che ne vogliono fare. Con Nakamura, specialmente. Sì? Sì, esatto. Non lo so, perché comunque si sono abbastanza chiusi in un angolo con questa situazione. Con Nakamura che ha appena rivinto il titolo e adesso c'è Bobby Roode che però è anche lui in rampa di lancio alla fin fine. Quindi non lo so. Non so a cosa arriveremo. Non sarei stupito se ci fosse un cambio di titolo alla fin fine. Vai, scusa. Sembra che a me è più classico del cul de sac, però sapranno bene cosa faccio nel senso. Comunque, ripeto, la chiave è capire quando e quando e soprattutto chi arriverà nel main roster. Sì. Due. Uno dei due che arriverà forse nel main roster potrebbe essere Samoggio. La domanda è... No, lui lo vedo abbastanza scontato e anche la Rumble. Potrebbe entrare nella Rumble. Invece dopo Wrestlemania potrebbe entrare uno tra Nakamura e Ruda. Sende chi. Anche perché c'è una voce che gira che vogliono fare Joe Stice a Wrestlemania. Eh, ok. Però il problema è che devi girare uno dei due. Non mi piacerebbe come cosa. Vediamo il da farsi. Vedremo che accadrà. Diciamo, alla Royal Rumble. Altre cose che vedremo alla Royal Rumble. Gli Otters of Pain, che a momenti ammazzano un Jobber, poveraccio. Contro i campioni di coppia. Chiunque si siano, più che altro. Perché avremo poi questo rematch tra i DIY e il revival. Hanno detto quando, tra l'altro? O settimana prossima? No, settimana prossima magari è la classica puntata di fine anno. Anche perché credo abbiano finito le registrazioni. Eh, no, credo che ci sia ancora la roba. Fammi vedere un attimo, fammi vedere un attimo i... O c'è un match, un solito match che buttano in mezzo. Sì, 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 sì. Vediamo un attimo. Fammi vedere un attimo i risultati, più che altro. No, hanno finito. Ah no, c'è ancora... No, c'è ancora il rematch tra... Tra... Diciamo i... Come si dice? Tra i DIY e... Coso. E... Non mi viene una parola. E... E... E revival. Perché l'hanno già registrato questo match. Ah, ok. Allora sarà un recap. Un recap. E c'è ancora... Ci sono ancora altre... No, ci sono ancora altri match. Ci sono ancora altri match. Allora, no, allora può esserci una puntata. Stavo guardando, ci sono ancora altri match che non sono nati a onda. Però la registrazione della puntata successiva... Sì. Ce l'hanno il 5 o 6 gennaio. Sì, esatto. Dopo due puntate. Esattamente. Quindi la prossima potrebbe essere la puntata di recap. Fammi vedere un attimo se per caso sul WWE Network hanno già messo nella... Diciamo nella schedule... Eh... Le robe praticamente di mercoledì per quanto riguarda il WWE Network. Perché... E poi la prima puntata dell'anno potrebbe essere quella con il DIY contro... Contro Revival nel rematch per il titolo di coppia di NXT. E seguito magari da altre cosucce. Mettiamola... Mettiamola così. Vediamo... Vediamo cosa... Vediamo cosa... Vediamo cosa accadrà. Vediamo cosa accadrà con... Con questa... Con... Con questa situazione. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Vediamo un po'. Mercoledì 28 dicembre. Eccoci qua. Vediamo un attimo sul network cosa dice a livello di NXT. Alle otto di sera. Se... Se fanno andare avanti... Ah, tra l'altro mercoledì replicano tutti i takeover dell'anno. Caruccia come idea questa... Questa cosa. Tra... In ordine tra l'altro sparso. Non so per quale... No, poi li fanno... Li fanno in ordine. Ehm... Per la prima volta assistete alla notte storica di NXT a Osaka con Samoa gioca di Fennetito contro Shinsuke Nakamura. Mmm... Ah! Allora, mercoledì puntata da due ore di NXT. Dalle otto alle dieci. E fanno vedere tutto lo show di Osaka. Ah, bene, bene. Carina come idea questa, effettivamente. Sì. Carina come idea questa... Questa cosa. Molto carina questa cosa. Bene. Sì, esatto, perché l'hanno tagliato, effettivamente. L'hanno tagliato. Sì. Ok. Vabbè, no, carina sta cosa. Quindi ecco come abbiamo risolto la questione di mercoledì. Due ore di NXT, quindi dalle otto alle dieci, con tutto lo show di Osaka, praticamente, che è una cosa ideale per quanto riguarda la fine dell'annata. Mettiamola così. E allora poi, la settimana dopo, potremo far vedere tutto lo show di Melbourne. Già che ci siamo, abbiamo fatto 30, facciamo 31. No, vabbè, vediamo un po' come andrà a finire. Aspetta che stavi saltando. Fabio, stai saltando? Se ti riesci a mettere in una posizione un pochettino migliore. No, comunque, altra cosa che volevo dire. Abbiamo avuto un memorabile match femminile a NXT. Non so se l'avete visto. Fabio mi sa che l'abbiamo perso più che altro. Ma c'è stato un bellissimo match femminile a NXT che ha messo di fronte Billie Kay e Daria Berenato, risolto in tipo un minuto, praticamente, con interferenza di Peyton Royce e schienamento subito da Daria Berenato. Billie Kay che poi tra l'altro con Peyton Royce ha sfidato Asuka, perché evidentemente hanno un desiderio di morte. Non so cos'altro aggiungere. Ognuno decide di morire in maniera diversa. Esattamente, esattamente. Mentre continua, tra l'altro, questa costruzione, tra virgolette, di Nicky Cross contro Asuka. Parlando di desideri di morte. Perché Asuka ha detto che Peyton Royce e Billie Kay non sono competizione. Nicky Cross è entrata in scena adocchiando Asuka e la cintura. e Asuka poi se, diciamo, ha avuto da ridere, più che altro, su questa cosa. Quindi, evidentemente, ha già annusato la sua prossima vittima. Vedremo chi sarà. Perché, più che altro, la questione di NXT è questa. Di decente e pronta, se vogliamo, l'abbiamo detto anche già altre volte, di decente e pronta al titolo femminile, o comunque ad andare all'assalto di titolo femminile, potrebbe essere giusto Ember Moon. Però Ember Moon non ha fatto praticamente nulla fino a questo momento, quindi bisogna anche costruirla prima o poi. Magari una vittoria importante a San Antonio e, bom, vediamo cosa accadrà. Basta, no, questo è NXT, poi c'è stato il 4-Way vinto, come detto, da Bobby Roode. Bel match, tra l'altro, se non l'avete visto ve lo... Eccomi, ecco. Ecco, dicevo, no, parlavamo del bellissimo match femminile che abbiamo avuto a NXT mercoledì, risolto in un minuto, tra Daria Berenato e Billie Kay. Non è la cosa peggiore, non è stata la cosa peggiore, la quale era presente Daria Berenato in settimana. La cosa peggiore che era presente Daria Berenato in settimana, quale era l'altra, vi grazie? Il video con me. Mettiti, Fabio, mettiti in una posizione perché stai saltando tantissimo. Certo. Mettiti in una posizione, o stai usando il Wi-Fi o stai usando la rete 3G o 4G e purtroppo abbiamo qualche problemino di collegamento. No, il video di Natale, ammetto di non averlo visto ancora. Ho visto però un altro video e ci riallacciamo a SmackDown, più che altro, a livello di cose che abbiamo visto. Se non l'avete visto, vi consigliamo caldamente di andare su YouTube, perché qualcuno ha fatto l'acquisizione di questo filmato. Un attimo che vi dico il nome più che altro del filmato, così almeno potete trovarlo. È un filmato di 13 minuti e si intitola, si intitola, si intitola, si intitola, si intitola, se non l'hanno già tolto, spero di no, no, assolutamente. Si intitola Becky Lynch, se c'è. Che donna, io l'amo. Eccolo qua, WWE's Becky Lynch, Fanny Dilemma, con una L sola, Instagram Live, cercate questo video che ha già raggiunto 10.000 visualizzazioni in poche ore, è praticamente la battaglia di Becky Lynch contro un'apri scatole. E con una scatola, con una scatola praticamente di Anna. Ma possiamo vedere giusto il momento iniziale, i momenti iniziali, potremmo ascoltare i momenti iniziali di questo meraviglioso filmato. 13 minuti e 46 di Becky Lynch che, che passa... Che rischia anche di ammazzarsi. Rischiato seriamente di accoltellarsi, tra l'altro. Eccola qui. Eh, no, niente, potremmo si blocca. Io ho problemi con YouTube da qualche giorno, non so per quale motivo, ma ho un buffer continuo praticamente sui video. Ah, anch'io, ma non è il servizio di DNS che usiamo? Può essere, può anche 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 essere quello. Può anche essere, no, ma può essere assolutamente quello che ho detto prima, potrebbe essere un problema, un problema semplice di DNS. Eh, comunque, ripartiamo. Ci sentiamo tra due minuti perché sto entrando un attimo nel colcino. Vai, vai! Ok. Questo, I wanted to make some Hawaiian chicken, see, I've already got a little bit of pineapple juice coming out of it. But my goodness! Anybody, anybody, send help. Tanto, Enrique. Ma, povera Becky. La, la Klaus trofobia è... No, per l'amor di Dio. Poi parliamo di la luce, la luce d'ora, eh. Parliamo, io parlerei anche di Rhyno, perché stasettimana Rhyno ha vinto tutto. Sì. No, è bello questo filmato vedere, a circa due minuti, il momento di esaltazione in cui, che arriva in Becky quando le dicono, prova a girare il, diciamo, l'apri scatole al contrario, perché lei l'aveva messo sbagliato. Si comincia ad aprirsi la scatola e poi non si apre più. Passa dalla gioia alla disperazione nel giro di qualche secondo. È un filmato fantastico, è adorabile anche. E purtroppo dimostra, come Becky Lynch, non abbia mai usato un'apri scatola in vita sua. Però vabbè, è un altro discorso. Se qualcuno vuole regalare a Becky un'apri scatola elettrico, almeno risolviamo questo problema per il 2017. E non corriamo più il rischio di vederla accoltellarsi le mani per aprire una scatola. Che poi, tra l'altro, aveva bisogno del succo di ananas per, diciamo, per fare il pollo hawaiano, cosa cavolo è. Perché ha preso l'ananas direttamente? Non poteva prendere il succo. Ce l'ho fatto molto prima, probabilmente. Ma lo frullava. Vabbè. No, no, ha proprio preso. Ha aperto la scatola e ha fatto uscire il succo, praticamente. Da lì. Enrique, allora, userò un termino che usa spesso... Un termino? Un termino con la ro? Sì, ho sbagliato, scusate. Perché è un termine che usa spesso il paladino della giustizia. Sì. Quando si parla di... Si va in America per identificare questi qua come mangiano. Sì. Sono dei barbari! E lei è una barbara. Vabbè, dai. Tra l'altro, noto con piacere la, diciamo, la progressiva scomparsa dell'accento durante questo video. Beck Lynch versus the Tin O'Kner. Cioè, c'è ancora, però non è forte come quando negli show. Cioè, c'è ancora, però non è forte come quando negli show. Adesso, non so, non so quanti di voi hanno avuto problemi con gli apriscatole nella vostra vita. La prima volta è comprensibilissimo, effettivamente. Perché questi, questi arnesi sono, diciamo, sono delle... Partoliti dal diavolo. Non è comprensibile cercare di accoltellarsi le mani. No, e vabbè, per tentare di aprire la scatola. Qui, 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 qui è il momento di saltazione. Vabbè, potete trovare questo video su YouTube. Cercate... Magari lo condividiamo anche sulla nostra fanpage. Vabbè, passiamo a qualcos'altro. Perché comunque non è successo molto a livello... No, vogliamo parlare dell'app della TNA che ha avuto finalmente la sua rivelazione ufficiale? No. Tu sai di cosa stiamo parlando, Giovanni, vero? Sì. Ecco. Allora, ne abbiamo parlato due... Non è che ho detto no a caso. Cioè, capisci? No, 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 capisco, capisco perfettamente. Dicevo, praticamente, l'abbiamo già parlato la settimana scorsa, l'app per vedere Impact in Inghilterra. Avevamo detto che sarebbe costata una sterline 99. In realtà non sarà così. Costerà... Quanto costa? Quattro sterline 99 al mese. Al mese? Al mese, per vedere Impact al passo con gli americani e altri contenuti che non si sanno al momento. Costa la metà del WWE Network e non si sa cosa offre. tre quarti meno contenuti, più che altro, anche. Molto di... Meno di tre quarti, scusami. Ah, sì, per dire. Tre quarti in meno rispetto alla WWE, almeno. Perché la WWE... Quante ore ha la WWE? 7000, mi sembra. La WWE ha 7000 ore, no? Allora, ipotizziamo. Mettiamo il caso che la TNA metta tutti i pay-per-views settimanali, tutto Impact, eccetera, eccetera. Arriviamo a... Quante ore? Un migliaio? Ma sicuro è un decimo di quello che c'è sul WWE Network? Non lo so, sai, perché comunque sono 100 ore all'anno. Sono due ore di Impact all'anno. Cioè, scusami. Due ore di Impact a settimana per un anno. Sono 100 ore a settimana. 100 ore... Eh sì, mi sto incartando. 100 ore all'anno. Per... Per 7-8 anni. Quando è che hanno iniziato? Sì, però tieni conto che... Ti ricontro... No, ipotizzando che le mettano, è cosa che non è assolutamente detto. Non è assolutamente detta. Vieni anche conto che Impact per 2-3 anni comunque è anche andata... ha fatto un'ora, eh? Sì, sì, no, infatti. Però negli ultimi 8-9 anni è durata due ore. Credo. Sì, ma... Posso domettere tutte le puntate, tutti i pay-per-view. Dall'altra parte abbiamo... Sì, no, infatti, cioè, è un tipo di prodotto completamente diverso, cioè, è un prodotto a livello economico completamente fuori mercato. Soprattutto non tanto... Non guardiamo soltanto la WWE, guardiamo anche più che altro le altre compagnie inglesi. Tipo la Insane Championship Wrestling al suo servizio on-demand. La New Japan al suo servizio on-demand e tra l'altro sta arrivando anche lo show del 4 gennaio, il Tokyo Dome. E ha anche, comunque, molti più contenuti storici. Poi abbiamo la Rev Pro, anche il suo... No, la Progress, credo che abbia il suo. Ma anche la Rev Pro. La Rev Pro credo che abbia, sì, anche il suo contenuto. Tutti i vari servizi on-demand. Se uno vuole farlo c'è Flow Slam, che praticamente è quel servizio con le indie, con tutte le indie praticamente della WWE. Ok, costa 20 dollari al mese, da fin fine, se uno vuole pagare mese per mese. Comunque c'è alternativa, c'è tantissima alternativa. Ah, voglia! Cioè, soprattutto, più che altro, il vero problema, il vero problema della TNA, sono due in realtà i problemi della TNA, uno, non hanno scelta, perché comunque non hanno scelta, devono per forza far così, perché non hanno un canale in Inghilterra che è interessato loro in questo momento, più che altro non hanno un canale interessato loro che paghi, che questo è il vero grave problema della TNA. Si sono messi in una situazione talmente brutta dal punto di vista dell'attrattiva per un network che non c'è nessuno che è disposto più a pagare per trasmettere la TNA, perché un canale che li trasmetta possono anche trovarlo. Se però è un canale come PopTV che non li paga, comunque questi soldi non li fanno alla fin fine. L'unico modo è effettivamente andare online e tentare di prendere due soldi. Però il problema è che prendono due soldi letteralmente. chi è che in Inghilterra è disposto a pagare per vedere la TNA a 5 esterni al mese, quando per 8-9 anni è stata trasmessa gratis? Forse anche di più di 8-9 anni. Cioè, è un modello che è destinato a fallire quello della TNA. Il problema vero, ripeto, è che non hanno scelta, non hanno assolutamente scelta, perché comunque è l'unico modo per fare qualche soldo, perché la situazione è drastica in Inghilterra per quanto riguarda la TNA, ed è il snore secondo mercato più grosso alla fin fine, no? Sì. Comunque, 4-7-99, vediamo che succede. Su cosa è vero se è geolocata questa app? Perché se non è geolocata potrebbe anche essere interessante dall'Italia, se vogliamo, visto che comunque non c'è la TNA in questo momento in onda nel nostro paese. Se non è geolocata pagherai 5 esterni per vedere la TNA? No, però potrebbe essere un'alterativa per chi vuole vedere la TNA, più che altro. a patto che ci sia qualcos'altro oltre a Impact, alla fin fine. Tanto in questo momento ho messo l'804, parlando di wrestling, c'è Nakamura contro, non riesco a distinguere, Nakamura contro un lottatore che non riesco a distinguere in questo momento. Contro un giapponese. Sì, contro un giapponese, però non riesco a distinguere il lottatore così sulle piedi, ma magari sbaglio io. Vediamo un po' se riesco a trovare chi è questo lottatore. Tu hai l'Iceky sotto mano? No, non credo. No, in questo momento no. Giusto per vedere. Allora, altre cose da aggiungere? Vabbè, vediamo che succede con la TNA, però alla fin fine non c'è. Potrebbe essere Nakamura contro... No, sai chi è? Sembra i Bushi, però non l'ho riconosciuto il... Diciamo il... Quale? Quello del 4 gennaio? No, è 2013. Il G1 Club è stato 2013. Nel 2013 mi sa che fosse... No, c'erano i Bushi. C'erano i Bushi, però devo... Però ha le braghe lunghe, ecco perché non l'ho riconosciuto. Quello intendevo. Guardandolo... Ha anche un taglio di cappelli diverso rispetto a quello che ha adesso. Sì, sì, è lui, è i Bushi, i Bushi, i Bushi. È assolutamente... È assolutamente cotto ai Bushi. E il match è quello lì. È la puntata del 6 marzo 2015 di Access da praticamente... Da... Come si chiama? Scusami, dal 20 febbraio del 2015 trasmesse su Access TV in Stati Uniti e il G1 Climax 23 con Nakamura e Bushi. Però i Bushi è completamente riconoscibili rispetto... Ripeto più che altro da adesso, perché l'hai visto anche... L'hai visto anche tipo nel Cruiserweight Classical, è la classica, diciamo, butanta blu, capelli castani. Qui adesso c'ha la zazzaraco, c'ha praticamente la frangia ed è rasato sotto. Quindi non è... Ecco perché non l'ho riconosciuto così su due piedi. Parando di Bushi... Parando di Bushi, dici che lo vedremo al Tokyo Dome il 4 gennaio? Sì, come Tiger Mask. Dovrebbe essere Tiger Mask. L'altro dovrebbe essere ICH. ICH. Tiger Mask W. E chissà se... Cosa del genere. Non mi dovrebbe stupire, effettivamente. Erano la Golden Star... Lui era la Golden Star... Era la Golden Shower. Ok. Benissimo. No, ti sbagli. Allora, il team si chiamava Golden Lovers. La Finisher si chiamava Golden Shower. Che vabbè, non è che cambia molto. Che erano due 450 Splash dallo stesso angolo, praticamente. Più che altro ci sarebbe col fatto... Ci sarebbe perfettamente col fatto che Omega ha vinto il G1 Climax con le mosse di Bushi. Cioè, usando anche le mosse di Bushi. Ti ricordi la conferenza stampa post-evento? Sì, sì, ricordo. Cioè, sembra quasi fatta apposta come cosa. Vedremo se ci sarà una faida tra Omega e Bushi. C'errebbe tantissimo una faida tra Omega e Bushi per il titolo IWGP. Però lo scopriremo dopo il 4 gennaio. Tu lo guardi il 4 gennaio, Mattia? Sì, sì. Ti alzi a vedere il 4 gennaio? Non so se mi alzo. No, io forse il 4 gennaio non ci sono. Però ci provo. Adesso vediamo. Proverò a vederlo in diretta. Inizia alle 8 e mezzo, ora, ora italiana. 8 e mezzo del mattino, naturalmente. Tanto se è come al solito, io mi sveglio per vederlo. Poi ci vediamo i primi match insieme e poi ti svegli. Poi io mi addormento o tu ti addormenti. Quindi niente. Alla fin fine. Tornando a noi, altre cose da segnalare nella settimana? Cosa c'è? Avete una certa età anche voi due. No, io sicuramente. Lui no. Insomma. Scusa, tu quanti anni hai, Giovanni? Lasciamo aperto. Ecco, io ne ho 34. Mattia quanti ne ha? 26. Io 38 e quando l'avete ascoltato non ho appena compito. Ecco, appunto. Tra l'altro, tu il 4 gennaio lavori o sei ancora fermo, Fabio? No, io il 4 gennaio lavoro. Ok, niente, quindi niente Tokyo Dome in diretta per te. Te lo guarderai poi con comodo. Più che altro te lo guarderai con molto comodo perché tanto come al solito durerà le solite 5-6 ore il Tokyo Dome, come tutti gli anni. Contando anche la Battle Royale pre-show. Ho detto una cosa sbagliata quando abbiamo letto la card del Tokyo Dome. Credevo che Tiger Mask W contro l'altro. Tiger the Dark fosse parte del pre-show, invece è proprio parte del pay-per-view. Dovrei proprio aprire il pay-per-view, anzi, direttamente. Tra l'altro... E tra l'altro hanno cambiato il match di coppia, sì, per quanto riguarda... Te l'avevo sparata che Ishi e Yano andavano per i titoli. E infatti andranno per i titoli di coppia e diventate un freeway. Un freeway è anche quello. Che palle. Che palle. Continuano a cambiare cose. Sì. Però vedi... Guarda il lato positivo. No, in realtà... In realtà hanno cambiato solo quello a livello di card. Anche perché non hanno più show, quindi... Sì, l'ho scattito fino al quarto. Però c'è un lato positivo. Sì, scusa. Sarebbe? Almeno i titoli di coppia junior sono in un match normale. Sì, però in compenso hai il titolo Six-Man della Never che avrà un... Che sarà il classico casino. Sì, ma quello non conta anche a... E non vedo l'ora di sentire Jim Ross commentare questo match quando Tokyo-Dome andrà in onda su Access. Sì, anche perché... Lì saranno problemi. Dimmi? In diretta saranno Corino e Kelly. Sì, in diretta. L'ultimo impegno di Corino. Dici che sarà... Ha già detto che sarà Corino? Ho detto che sarà Corino. Ok, ok. Vabbè, magari sono in tre. Magari sarà Corino, Kelly e Rocky Romero che hanno fatto un ottimo lavoro a G1 Climax. Ma se Rocky combatte? Ah, vabbè, giusto. Combatte Rocky Romero? Eh sì, Rappongi e Vice chi sono? Ah, giusto. Giusto osservazione. Hai ragione anche tu. No, niente. Allora niente. Allora saranno Corino e Kelly. Anzi, Rappongi e Vice. Esatto, esattamente, sì. Giusto. Quindi dal 5 gennaio, non credo dal 5 perché il 5 ovviamente commenterà ancora Corino. Sì. Dal 6 gennaio bisognerà cercare un nuovo commentatore. Sai che è sempre lì. No, non credo, sai. No, bisogna cercare un commentatore per la Ring of Honor a questo punto. Che tra l'altro abbiamo cominciato a coprire anche sul sito, se avete visto. Abbiamo cominciato a mettere online i report degli show televisivi della Ring of Honor e dei pay-per-view con Final Battle e poi cercheremo... A proposito... Dai. A proposito dei pin di commento, tanto di cappello a quello della UK Championship Series, là. Order senza visca e di grida nelle orecchie. Sì. Call, praticamente, Sara, ma dovrebbero essere call William Regal e Nigel McGuinness. Esatto. Call ma senza visca e di grida nelle orecchie, sottolineiamo. Sì. È tutta altra roba, come abbiamo sentito in altre occasioni. Scusate, ma adesso io non voglio fare una battuta su una cosa comunque tragica, ma veramente il terrorista ha detto gli agenti di polizia di essere calabrese prima di venire ucciso? Ma no. Sì, lo dice Repubblica. Amin Samri e gli agenti sono calabrese. Prima di essere ucciso nello scontro fuoco con la pattuglia, il tunisino ricercato per la strage del mercatino di Natale di Berlino aveva risposto alle richieste degli agenti di identificarsi. Non aveva documenti nel cellulare, solo spazzolino, l'intervigio, il sapone e la barba. Non aveva documenti, ma solo calabrese. Lo possiamo chiedere a Giova che frequenta quelle zone. Sì. I tratti erano simili. Ma smettila! E' certo, credibilissimo una persona così calabrese, no? Ah, mamma mia, mamma mia. Comunque, vabbè. Vabbè, niente. No, adesso vabbè, ci spiace prendere e sorridere è comunque una cosa tragica. In tutti i sensi, perché comunque anche l'uccisione di un terrorista, per quanto, tra virgolette, auspicabile dopo quello che era successo, è comunque una cosa tragica. Però mi fa ridere il fatto che abbia tentato di difendersi e all'identificazione degli agenti, dicendo di essere calabrese. Completamente non credibile come cosa. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo perdere. Ovviamente noi abbiamo scherzato, però comunque se c'è qualcuno che ci sta ascoltando dalla Germania. Abbiamo piacevolmente creduto a un calabrese che ha vinto il titolo intercontinentale. No, cioè, creduto tu. Parla, parla per te! Non mettermi in bocca cose che non ho mai detto. Parla per te, Giovanni, per favore. Parla per te. Ma stava che lì spuntasse il dito un po' più l'è, invece con calabrese potrebbe essere un piemontese. Guarda te. Allora, io che lo avevo a fianco, posso testimoniarvi che, già dopo il ringraziamento di Santino alla Folla e all'Ashley, Eric già stava intonando fratelli di Italia. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Io che ho grossi problemi ad alzarmi quando c'è l'Indo Nazionale in Lega 2. Pensa. Secondo te potevo... Vabbè, dimaginti che è antipatriotico. Ma non deve essere antipatriotico, è il fatto di fare l'Indo Nazionale prima della Lega 2 che è una boiata. Tutte le domeniche. 50 volte all'anno, mi devo... Due balle, cioè, basta. Basta una volta, lo fai la finale, boh. Eric, ma tu dovresti seguire come senso di rispondabilità il vostro rappresentante massimo che è il Pollo. Certo, guarda. Che poi ti lamenti, che poi ce l'abbiamo con te, ma non è che Fabio sfoscoreggia durante l'Indo... Vabbè, la smetti la... In Serie A, ho sbaglio, Fabio. Che tristezza. Tu durante l'Indo in Serie A... Hai perite gazzose, mettiamola così. Io ho un minuto, come si dice, è un minuto in più che ho per andare a prendere da bere. Ah, ok. Non avevo dubbi. Questo poco patriottismo che c'è in questa trasmissione. Sì. Cuspa! Certo, va bene. Va bene. Va bene. Veramente, altre cose da aggiungere. Non credo di averne questa settimana a livello di notizie, perché comunque non è successo molto. Vogliamo parlare di... Eh, Giovanni, che non sei stato in onda per... Vuoi dire la tua sui pay-per-view, più che altro? Su Roblox. Su Roblox. Scritto R-A-W-W. E... Vabbè, ma... Vai. Anche se proprio... Anche se casualmente ce lo dimenticassimo, Roblox non è che... Sì, non è gravissimo, effettivamente. Non è Roblox, è Roblox. Io me lo sono già dimenticato. Ecco, appunto. No, ma poi continuate a preferire il pubblico che disturba gridando Ten, piuttosto che questo... No, no, sei tu che preferisci il pubblico che disturba. Non mettere in bocca parole che non abbiamo letto. Lo preferisci tu, il pubblico. Scusa, ho detto sbagliato a dire. Volevo dire il contrario. Continuate a preferire il pubblico da chiesa come questo, piuttosto che quello che disturba gridando Ten. Ma c'è una via di mezzo. 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 Sì, lo so, lo dicevo sempre. Mediostat Virtus. Sì, certo. Ovvero Bologna è a centro classifica. Eh, va bene. Almeno loro in una classifica ci sono, Giovanni. La tua squadra dove sta? A livello cestistico. Dove sta la tua squadra? Corrego, la squadra della tua città, più che altro. Dove sta? Eh, ma arrivano adesso. Arriviamo, arriviamo. Con calma, sì. Non sappiamo se si chiamasse la Basket Godot, la tua squadra di basket. Comunque, andiamo avanti. No, di la tua su Roblox. Mediocre. 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 È stato uno show deludente. Cioè, perché comunque anche... Più che altro, la delusione più coccente è stata, se vogliamo, Jericho contro Rollins, da cui mi aspettavo veramente tanto e niente. Abbiamo avuto un messo da Roll alla fin fine. Questa è stata la puntata di Raw? Eh, eh, anche, sì. Ma anche lì avrei avuto problemi, per dire, sulla puntata di Raw. No, ma era sufficiente perché era una puntata. Ok. Questo è un pay-per-view. Questo è un pay-per-view di fine anno, quanto vogliamo. Ci sono ancora due o trecento persone, credo, non di più, che pagano quei cinquantaquattro dollari per vederlo. Sì, esatto. Vedo, dai, uno spettacolo non di costegno, ma decoroso. Sì, eh, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Eh, niente, aspettiamo... Adesso fortunatamente abbiamo un mese e mezzo per il prossimo pay-per-view, che è la Royal Rumble, tra l'altro. E poi, vabbè, dai. Da lì cominceremo la Road to Wrestlemania. Più che altro... Io ho la netta sensazione che questa, diciamo, che questa Road to Wrestlemania, come posso dire, non voglio dire che sarà brutta, perché non lo penso, però credo che sarà, secondo me, danneggiata dal, diciamo, sarà danneggiata dal fatto che abbiamo due roster separate e quindi i talenti sono divisi in due, sostanzialmente. Ma ha detto niente. Dipende. Perché ti... Piccato perché ti... Dipende anche da cosa vogliono fare di Interbrand. Ok. Eh, Interbrand, stiamo sicuri che vogliono fare qualcosa, perché match Interbrand non me ne vengono in mente in questo momento. Ma cosa vogliono, eventualmente. Ah, ok. Secondo me non vogliono fare niente a Interbrand, tu lo dico con grande franchezza. Perché non... Eh, infatti. Grandi match Interbrand non ne hanno in questo momento da fare, eh? Eh, no. Perché per dire, Tec e Contorsina non è Interbrand, per esempio. Ho messo che vogliono fare Tec e Contorsina. Tec e Contorsina sono entrambi di SmackDown. Cioè, grandi battaglie... Cioè, più che altro, poi, la battaglia Interbrand l'hai già fatta a Survivor Series. E l'hai anche, l'hai anche, diciamo, l'hai anche venduta... Adesso poi, vabbè, posso cambiare naturalmente idea. Però, l'hai anche venduta come l'unica notte dell'anno in cui Rolls-Mackdown possono andare contro. Se vi ricordate. Poi non è vero. Vero, assolutamente vero. Eh, ma l'area Ram... Sì, l'area Ram è un caso a parte, se vogliamo. Però, effettivamente, hai ragione. Cioè, c'è anche l'area Ram. Restalmania, non so se vorranno fare match Interbrand. Quest'anno ho i miei dubbi. No, lui ci si dà troppo... Perché stai... Fabio, 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 Fabio non si capisce niente. Fabio, Fabio non si capisce niente. Quindi meglio che... Meglio che ti sposti. Eh, vado sulla casa adesso. Eh beh, vai tranquillo, vai tranquillo. Beh, guarda, io... Perché l'ha rotto presso il media, mi limito alla Ram. Allora, non voglio essere portatore di sventure, perché per anni ho detto che... Lo sei stato. No, più che altro perché per anni ho detto che per far male alla Ram ci voleva un'impresa e per due anni di fila quest'impresa l'hanno raggiunta. Sì. L'anno scorso fortunatamente no, però nel 2014-2015 sì, ampiamente. Il gufalone ha colpito. Esatto, sì. Ora, diciamo che quest'anno non dico che è impossibile. Però... No, scusi, scusi, mi permetta. Come non è possibile? Come non è possibile fare male alla Rumble? No, questa... Puoi sempre... Puoi sempre farlo, eh? Puoi sempre farlo. Ma vuoi mettere, finalmente vince qualcuno che puoi fischiare liberamente. Vabbè. Basta che fai vincere Romano e poi lo dai a lui la Rumble. Sì, ma il problema è che Romano lo dovevi far vincere dall'eroe che nessuno voleva, come eroe che nessuno voleva. Sì. Strowman almeno vince come cattivo, stronzo, grosso e incapace, che è esattamente, come dire, il perfetto... No, incapace no, però. Cioè, incapace non viene venduto come incapace. Quello è il problema. Sì, ma voglio dire, se vince Strowman, non c'è Vince dietro le quinte che dice ma perché non me lo applaudono? Cioè, non mi capisci. Ah, ok, sì, da quel punto di vista posso darti ragione, effettivamente. Cioè, solo perché io ho eliminato un'ora prima del previsto quella specie di nanetto che tutti tifano per lui. Dettagli, sì. Perché mi tifano Renzi? Cioè, se qui mi prendi il Daniel Bryan di turno, ovviamente è un nome per dire, e me lo fai buttare fuori da Strowman, il pubblico lo fa incazzare, ma è tutta manna del cielo essendo un cattivo. Sì. Cioè, sai com'è la differenza? Il problema è che poi una cosa del genere porterà probabilmente a Strowman contro Roman Reigns in quel di WrestleMania, magari per il titolo anche, se Reigns batte Owens alla Royal Rumble. Allora, fai conto che sotto quel match c'è almeno, almeno, Taker Sina. Sì. Stimes? No, più che sotto, sopra quel match. Sopra, scusami. A livello di importanza. Allora, Taker Sina. Sì. Il match per il titolo SmackDown, qualunque questo sia. Se non è Taker Sina, ovviamente. Se è Taker Sina, se è Taker Sina, cioè, se fanno Taker Sina, dubito che non sia per il titolo Taker Sina. Ok, perfetto. Allora, il match di Styles. A meno che veramente non fai una cosa tipo, ok, Taker Sina vanno uno contro l'altro per l'orgoglio, tra virgolette, e i Styles non avversari, e veramente non gli butti contro, che so, un Samoa Joe, per esempio. Un debutante Samoa Joe. Rollins contro la Triple H. Ok. Ronda contro la Sasha, sì, vabbè. Che stanno costruendo magnificamente, tra l'altro, Rollins contro la Triple H, ma quello è un altro discorso. Rollins contro la Triple H è il mio sogno, io ve lo dico già. Sì, sogno bagnato, giugerei anche. Sì, sì. Ronda contro la Sasha? Scusa? No, Ronda contro Sasha no. Ma sto sognando, lo ammetto. Sasha, dovessi dire, sarà nel multimatch femminile. Quale multimatch femminile? È con tutte le altre della divisione. Ah, quindi l'apertura, insomma. Sì, l'apertura. Sasha non possiamo toglierla dalle schermo. Ecco, vuoi fare l'interbrand? Fai il rock contro SmackDown con le Divas. Cioè, con le donne, più che altro lo fai nel pre-show, magari. Io non voglio più vedere Sasha. No, ti spiego. La vedrai dopo Rest Elmenia, probabilmente. Nel senso, non è che non la vedi più fino a Rest Elmenia. Per il titolo, Rest Elmenia, dovessi dire, andranno Charlotte Bailey. Mi spingi perché non vuoi vedere più Sasha? Fammi capire. Perché mi ha rotto le palle. Non vuole vedere più Sasha come face, più che altro. Quello è il discorso. Ma se tutto va bene, sarai accontentato dopo Rest Elmenia. Boh. Boh, ti sembra una buona face? L'hai visto, Ro? Allora, Ro aveva il problema di... No, Ro non aveva nessun problema. Il suo promo, prima che entrasse, è stato tremendo. Lei è una pessima face. Allora, lei non è una pessima face. Lei non è una face, punto. Non devi farle fare la face. Non devi farle fare la face. Allora, lei si è trovata in un ruolo nuovo, con una gestione che francamente ha fatto acqua da tutte le parti. Ok, siamo d'accordo. Però, a livello di face, lei non è una buona face. La gimmick sua non è da face. Lei rende cento volte in più da heal che non da face. Questo te lo posso anche concedere. Però, allora, trovami che cosa poteva fare in un promo dove, sostanzialmente, scusate, mi dispiace che al 48esimo cambio di titolo fra noi due io ho avuto la brillante idea di cedere a due secondi dalla fine perché il mio capo pensava che fosse una cosa bella farmi cedere a due secondi dalla fine e non so che cazzo dire a quei tifosi adesso. Ma sai che quello non è neanche... Non è un problema, guarda come si muove, come recita. Il cedere a due secondi dalla fine non è un problema perché se tu guardi l'incontro di MMA non è assolutamente un problema. Anzi, è capitato più e più e più volte di persone che cedono con un secondo rimanente alla fine. Il problema è chi ha ceduto. Non è tanto il come ha ceduto. Il problema è chi ha ceduto perché doveva essere lei a far cedere Charlotte e non il contrario. Hanno raccontato una storia al contrario. Ma lì l'avrei capito. Quello è il problema. Ma lì l'avrei capito. Lì certo che aveva più senso. Sono d'accordo. Ma ha senso anche... Cioè nel senso... Ha senso anche così... Cioè il finale a livello di credibilità ha comunque senso. Il problema è la storia che hai voluto raccontare. Hai raccontato la storia di questo match. Al contrario. Assolutamente al contrario. Hai detto bene. Quindi già lei si trova in un ruolo obiettivamente diverso da quello che ha sempre fatto. Perché la face, diciamo, l'ha fatta poco. Esatto. Poi si è trovato in una situazione dove in questa storyline non si è capito veramente niente. con 48 cambi di titoli spesso insensati. Cioè non ti metti a tuo agio una situazione del genere. No. Non è che io vado a una situazione del genere. Però ti dico... Una cosa del genere. Però ti dico... A me lei non convince come interpretazione. Cioè non è tanto il promo di lunedì. È una situazione che... È un'idea che ho già da diverso tempo che lei non è buona a far la face. Ti ti conto che essendo Sasha particolarmente brava molto più della media delle altre... Quello sì. Quello sì. Loro si sono trovati nella situazione che la devi girare face semplicemente perché la gente ti fa per lei. Punto. Cioè... Ma lei non è in grado di portarla avanti secondo me questa cosa. Cioè perché non... Perché il suo personaggio e la sua interpretazione non... Non la fanno parire simpatica. Quello è il discorso. Quello che intendo. Secondo me la verità è no. È molto... Cioè per dire... Ti faccio un discorso opposto. Ti faccio un discorso opposto. Un'altra che per esempio Da Hill secondo me sarebbe improponibile è Bailey. Però non più motivi. Bailey Da Hill è improponibile. Ma infatti non torna mai. Certo che è improponibile Bailey Da Hill. Sasha secondo me Da Face non è proponibile. Il problema è che Bailey Da Face la stanno massagrando. Certo. Massagrando. Assolutamente. Sono pienamente d'accordo. Sì. Pienamente d'accordo. Ma non è il discorso che sto facendo. Io sto facendo come personaggio e come interpretazione Bailey Da Hill non puoi mandarla. Molto semplicemente. Per lo stesso motivo più o meno è quello di Sasha. Per la gimmica e per come interpreta lei Da Hill rende centomila volte in più che non Da Face. E infatti pare che vogliono girarla a Hill. E hanno l'occasione perfetta per farla dopo Restylmania quando Bailey probabilmente vincerà il titolo contro Charlotte. Dovessi dire perché la storia mi sembra che vada in quella direzione. La consacrazione dovrebbe arrivare a Restylmania per Bailey. Probabile. Sperando che la buchino decentemente in questi mesi cosa su cui ho i miei dubbi. Io continuo a sognare nelle diva come dire questa intrusione della Rausi però vabbè. La Rausi ha altro da fare. Ha altro da fare in quello il 30 dicembre. Ho capito. Il 30 dicembre? Il 30 dicembre però vince il titolo probabilmente dovessi dire. Secondo me ha ottime possibilità di portare a casa il titolo. Ho capito e anche se lo vince qual è il problema? Il problema è che la UFC non lo fa andare in WWE mi sembra evidente. Ma schia. Uno. Due. Mi spieghi il perché della Rausi? Ma è Restylmania. Ma come? Ma non dobbiamo ma cosa vuol dire? Perché è Restylmania? Dai! Rausi un match a Restylmania finché è sotto contratto con la UFC non lo fa. È inutile che ci giriamo attorno. Non lo fa. Specialmente se il 30 rivince il titolo come credo. Allora l'unica persona realisticamente che può fare un'apparizione a Restylmania e dico apparizione non match è Connor. È l'unica apparizione. E anche quello sarebbe divertente. Però fa un'apparizione. Fa un'apparizione. È in uno status che forse è più grande. Lui è intoccabile. Lui è assolutamente intoccabile. Lui può veramente fare quello che vuole in questo momento. Allora se lui dice io voglio fare un match a Restylmania lui può fare quello che vuole. No perché è sotto contratto. È sotto contratto e i contratti impongono tutte le attività fisiche devono essere provate dall'OFC. Non lo può fare. Però sicuramente un po' più di libertà sulle sue azioni quello sì però nella restituzione del titolo perché sei un orgoglioso McGregor però ti dico siccome la UFC deve comunque approvare tutte le sue apparizioni è vero che c'è una nuova proprietà però comunque il ramo decisionale è ancora comunque in mano a Dana White secondo me un'apparizione di Conor McGregor a Restylmania a livello di cosa fare a Restylmania deve comunque approvarla nei minimi dettagli con la WWE come peraltro è stato fatto con Ronda Rousey facendo Phantom Wrestling ipotizzando la possibilità di vedere la Rousey mi spiegate perché saresti così negativi al riguardo ma io non avrei niente il contrario però ti dico non accarrà infatti ce l'avete io non ho niente il contrario con Ronda Rousey secondo me non raggiunge nulla non raggiunge nulla io per scusate il problema il problema non è tanto la pressione di Ronda Rousey a Restylmania prendiamo Ronda Rousey adesso perché purtroppo l'aura della Rousey dopo la sconfitta in UFC è comunque venuta molto meno e infatti due anni fa avrebbe avuto molto più effetto infatti l'unico posto dove quest'aura può aumentare è nella WWE insomma nel momento nel momento in cui la WWE nel momento nel momento in cui la WWE è al minimo storico a livello di mainstream allora forse non ci siamo capiti voi avete inteso il contrario non ho detto che un'apparizione in WWE aumenta come dire l'aura di imbattibilità della Rousey intendevo il contrario intendo se c'è un posto che è in grado di ricostruire da un punto di vista del wrestling ovviamente non della UFC quanto una cerchia c'è una sorta di imbattibilità per la Rousey questa è la WWE dove ovviamente la cosa del genere me l'hai costruito ma che c'è mi viene a dire ma ma scusate allora se la Rousey fa in WWE molla l'MMA completamente sì è chiaro non c'è non si scappa sì 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 ma allora lasciamo stare un impegno continuativo io parlavo di cosa può aggiungere a Wrestlemania la mia domanda è i due era scusate Shaquille O'Neill non aggiunge nulla Donald Trump Shaquille O'Neill non aggiunge nulla no allora Donald Trump ha aggiunto ai tempi e come e come ha aggiunto ai tempi scherzi tutto ma aggiunge economicamente hai detto poco resta in media più venduta resta in media più venduta di sempre grazie a Donald Trump l'edizione di Trump ricordo ancora a parte i commercial free che hanno rivolto se non ha avuto stesso successo però è quella con Trump sì sì ma a parte io non parlavo di economicamente perché immagino che Mattia quando mi ha detto non la voglio la Rousey a Presselvinia non si riferisse ho detto che non la voglio ho detto che cosa aggiunge la Rousey in questo momento alla scena femminile da WWE cosa aggiunge? qualsiasi cosa no ma cosa? ma ma stiamo scherzando quello che l'unico che può aggiungere a parte il fatto che la Rousey deve anche essere allenata prima per fare l'unico che può aggiungere qualcosa a livello è Conor McGregor ma per ovvi motivi allora ti potrei fare n nomi di gente che può aggiungere qualcosa vai McGregor poi la Rousey poi mi ucciderete ma anche Punk 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 non viene sai già che non viene lascia stare viene e non viene è normale che non viene sì ma devi anche pensare al realismo di queste possibilità la Rousey arresta il menia non viene inutile che ci giriamo attorno finché lei è sotto allora se perde il 30 dicembre ok se perde il 30 dicembre ci sono buone possibilità che molli definitivamente l'MMA e allora magari possiamo anche pensare a una rinnovina e poi non è in fase furiosotta a differenza del 7 ecco chissà perché tra l'altro dopo questa ammemorabile questa ammemorabile l'apparizione a Fast and Furious 7 è stata per 18 secondi netti sì vabbè ecco parlando di Mr. Fast and Furious chissà se da De Rocco secondo me l'apparizione resta meglio a patto che non gli facciano più fare quello che ha fatto l'anno scorso tipo dar fuoco con un lanciafiamme al suo nome 20 minuti di promo 20 minuti di promo per annunciare un record farlocco e poi due secondi di match per far secco Eric Rowan e doveva tornare come Mr. Smack il record non è farlocco c'erano veramente ma finitela non ce n'erano centomila persone saltando la fila abbiamo contato tutti quelli che erano in fila smettila italiani brava gente smettila lo fate anche quest'anno italiani brava gente immagino ovviamente Giove è arrivato con il numero centomila sì esatto l'ha girato ha detto guardate c'è uno c'è uno esatto ti dico tornando al discorso che stiamo facendo la Rausi l'unica speranza che ha di apparire a Restylmania a parte il fatto che se la Rausi appare a Restylmania l'unica da mandargli contro è Charlotte e non Sasha Banks tanto per cominciare perché Charlotte è campionessa ma la direzione è Charlotte contro Bailey più che altro per motivi di tempo perché il primo match sarà la Royal Rumble lì Charlotte probabilmente vincerà a Sporco poi c'è un altro bei per via poi c'è direttamente a Restylmania se io devo pensare visto l'identikit che è stato fatto della possibile anniversaria di Sasha Banks a me viene una persona sui 42 43 anni che fa la dirigente che è un'altra dirigente WWE Stephanie McMahon si è Jobba ma proprio a cazzo perché non c'è alcun precedente cioè a livello eh che ne sa mi crei Eric sai come fanno lo va bene c'è più che altro guarda che Melzer Melzer ha detto che i piani per Sasha non hanno dentro né leggende né 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 titolo quindi vediamo secondo me sarà nel match faranno un match a cazzo con multi 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 in questo caso lei ci sarà dentro lo vincerà e poi il giorno dopo cominciamo Sasha Contobelli e Sasha torna su Belli intanto kickoff durerà 4 ore quindi c'è tutto il tempo oppure nel kickoff faranno un interessante match visto fra Sasha Banks e Dan Brook io tra l'altro parlando di kickoff io spero vivamente che il kickoff della Ryan Rumble non duri 2 ore perché sono già stufo adesso già il mio vero dura 4 ore se poi mi fanno anche 2 ore di kickoff veramente è la volta già la Ryan Rumble essendo a 50 durerà un'ora e mezza no sarà ha detto a 30 poi possono cambiare ha detto proprio a 30 negli spot vabbè ma ogni 4 minuti entrerà uno beh no magari riempiamo la card di altri potrebbero riempire intanto ci sono delle porte in più per l'allenamento o come si gioca cos'è è il nuovo è il nuovo calcio giocare giocare con una porta in più ah ok benissimo va bene no poi potrebbero fare un'altra cosa sì vai 30 partecipanti sì ma due vite cioè devi essere eliminato due volte cosa è come i tornei di poker doppia eliminazione esatto il ribai il ribai ok benissimo esatto cioè se è eliminato una volta puoi rientrare la seconda ah ok benissimo è buono sapersi questa cosa lei è un imbecille vai sono 30 però sono 30 30 di raw e 30 di smack ah 60 no due royal rumble non ce li hanno neanche nel roster a momenti 30 lascia fare fanno due royal rumble la brand royal rumble è un'idea geniale sì fanno proprio due royal rumble allora direttamente scusa abbiamo due titoli abbiamo bisogno di due sfidanti va bene ok speriamo di no spero ovviamente che voi vi sbagliate mandiamo una Fabio tu che sei nello street team manda questa idea ma perché per quale motivo perché è bello perché è una grande idea ma no l'idea del cazzo mettetela va bene va bene va bene va bene direi che non ho altro da aggiungere per questa per questa settimana cosa diciamo di cose legate al wrestling sotto l'albero trovate nulla voi vabbè Dario ha già trovato il suo regalo di Natale barra compleanno domenica con il bellissimo il bellissimo gioco in scatola della WWE no no l'unico regalo sportivo che voglio è che me lo giochi come contro Indiana a Boston posso ringraziare la stupidità delle persone che solo per il fatto di aver visto un attentato hanno fatto crollare il prezzo degli aerei di 300 euro va bene lei però permette è un cinico no non sono cinico la gente è stupida che pensa che come dire purtroppo è un problema che è talmente serio talmente difficile da analizzare che non siamo certo noi le persone in grado di farlo ovvio noi cinicamente ne abbiamo approfittato però non è modo no ma ho capito ma ti sembra no no e dico non è modo questo di far andare i prezzi degli aerei fino al giorno prima alle stelle il giorno dopo calano ho trovato ho trovato il regalo di Natale ideale ve lo metto ve lo metto sul discord vai cioè ti sembra la reazione ideale ad un evento tragico quella di dire ok no certe libertà che mi prendevo non me le prendo più come se andare in un mercato o in un metropolitano o qualcosa fosse una cosa di cioè di rinunciabile ecco di qualcosa che non fa parte della nostra vita quotidiana che senso ha vabbè bello bello questo sì bello questo regalo niente per la persona che ha già tutto molto bella giusto va bene niente è un bellissimo regalo questo io voglio l'action figure di Vacant di Vacant non credo esista comunque io voglio invece salutare tutti quelli che erano convinti che AJ Styles non avrebbe fatto quello che ha fatto sta settimana a Esworth credendo che Esworth avrebbe vinto il titolo non credo ci sia voglio salutarli tutti ci sarebbe stato un mezzo no 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 fidati c'era gente che era convinta che era convinta che non sarebbe che Esworth avrebbe vinto ok devo ricordarvi l'ultima volta quanto ci è voluto per convincere Vince a vincere il titolo a un midget e come è andata a finire dopo vettila vettila va bene figurati per Esworth vado va bene va bene chiudiamo qua per questa settimana grazie scusami un'altra cosa di Road Dog la barzelletta del record violato si è confermata ancora più barzelletta avendoglielo tolto praticamente il giorno successivo è schifo no vabbè è schifo maledetta WWE no non è schifo è veramente sputare in faccia la propria storia tutto qua basta va bene grazie a John la storia si riscrive grazie a John tra l'altro tra l'altro Giova devi essere ancora più felice perché nessuno potrà mai battere quel record contando che hanno ritirato quei titoli va bene lasciamo stare si guarda ma è come se domani il Milan ritirasse la numero 6 perché per intitolare l'associazione di Barisi ecco tutto qua allora grazie a Mattia di noi grazie a voi buon Natale e auguri ascoltate tanta mosseca buon anno anche visto che arriveremo online poi e anche buon anno perché arriveremo poi online con la prossima puntata esatto infatti l'anno nuovo la sera la sera lì di Capodanno ascoltate tanta mosseca ma anche no ma anche no smettila mosseca grazie a Giovanni Pantalone auguri anche a te e famiglia grazie auguri a tutti il mio come dire i miei buoni propositi per l'anno nuovo sono quelli di diventare molto più tollerante molto più rispettoso va a cagare non ci crede nessuno grazie a Fabio Giovanni il tuo regalo di Natale perfetto sarebbe che la WWE inizia a rispettare i fan vero? ma guarda io proprio perché ho fatto questi buoni propositi l'anno prossimo quando vedrò Reigns battere vabbè esulterò grazie a Fabio De Nardi e buon Natale buon anno buon tutto quello che feste mica feste e ciao grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento rimanete con il nostro sito buon Natale buon anno a voi e alle vostre famiglie buon Natale in ritardo buon anno in anticipo visto che arriveremo poi online con la prima puntata del caffè del 2017 il 2 gennaio 2017 e niente prossimo appuntamento con la stiamo finendo gli awards esatto apriremo apriremo probabilmente le votazioni martedì durante la puntata di avete ancora qualche giorno tvwrestlingcaffè chiocciola anzi chiedo scusa tvwrestlingcaffè con una v sola una w sola at gmail.com per le vostre nomination le categorie le trovate sulla nostra fanpage facebook.com slash tvwrestlingcaffè grazie per averci ascoltato ancora buon anno rimanete con tuttoressi.com wrestlingcaffè torna tra domenica e lunedì prossimo domani invece come al solito il post show di Monday Night alla prossima moseca ciao